Ravenna 2019 si conferma un grande contenitore di iniziative, conferenze, workshop, incontri, lab meeting, scuole di alta formazione e poi tanti eventi culturali. Quindi questo grande mosaico di iniziative viene allargato anno dopo anno e richiama Ravenna circa 2000 persone. Quest'anno ci sono state anche una conferma importante, il progetto G100 per i giovani, quindi 100 giovani da formare su queste tematiche che sono ospitati per tre giorni a Ravenna. Tante altre iniziative poi hanno preso corpo con un focus sulle start-up innovative nei temi dell'economia circolare e poi una grande serie di iniziative trasversali in tutte quelle che sono le tematiche dell'economia circolare. Tutti gli altri saranno disponibili nel sito della manifestazione, labelab.it slash ravenna2019 e siamo già pronti per la prossima edizione di maggio 2020, sempre per una nuova edizione completamente rinnovata nei contenuti e quindi bene questa edizione, avanti con la prossima. Grazie